Sono entrate in vigore dal 7 febbraio le nuove regole per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid nelle scuole, così come previsto dal decreto approvato lo scorso 2 febbraio. A riassumere la situazione negli istituti pescaresi è il vice sindaco e assessore all'istruzione di Pescara Gianni Santilli. Sono cambiate le regole che danno la possibilità finalmente ai bambini di tornare a scuola in tranquillità, perché per attivare la DAD adesso bisogna avere addirittura 5 positivi in una classe, fino alla scuola primaria, quindi alle scuole elementari. Invece dalla scuola media a salire con le scuole superiori devono essere due positivi in ogni classe per attivare la DAD. Però, visto il periodo, visto il momento che sembra che le cose stiano andando molto meglio, io sono molto contento dei risultati che si stanno ottenendo. Ma questo lo vediamo anche grazie ai risultati che io ho giornalmente dal servizio Mensa, dove il numero dei ragazzi è tornato a salire. Quindi anche per le famiglie c'è un grosso sollievo. Quali sono le prospettive per le prossime settimane? Sicuramente ritorneremo un po' più alla normalità, anche con le nuove misure varate dal governo per quanto riguarda le mascherine all'aperto. Si comincia davvero a respirare area di normalità? Area di normalità, però questo fatto delle mascherine dall'11 di febbraio di toglierle all'aperto bisogna fare attenzione, perché bisogna stare molto allerta, non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo essere sempre rispettosi del distanziamento e della pulizia delle mani.